Una reale opportunità di condivisione e confronto sulle scelte che interessano la montagna e il suo futuro. Il convegno Il futuro delle zone montane nei parchi, organizzato da Patagonia Cortina all'Alexander Hall, ha visto alcuni grandi attori impegnati nella salvaguardia della natura di montagna. Alla base la convinzione che parchi, oltre a preservare, promuovono, studiano, gestiscono in modo armonico ed equilibrato i territori con tutte le attività che lo compongono. Fondamentale anche per questo l'importanza della tutela delle biodiversità. Noi abbiamo un solo pianeta, in questo pianeta ci sono degli organismi viventi. Purtroppo gli ecosistemi naturali sono sempre più attaccati, abbiamo ormai meno del 3% di questi ecosistemi ancora integri. C'è un'estinzione di specie in tutti i gruppi, sia animali che vegetali. Di conseguenza questa è la vera priorità per il nostro futuro, per la salute, anche per la qualità della vita e per le future generazioni. Tra i relatori anche Mirta da Prappocchiesa, da anni impegnata con il progetto Parco del Cadore. Un parco produce, il Parco del Cadore può produrre diversificazione di attività, per cui anche portare occupazione agli artigiani, ai commercianti, a chi lavora nei pascoli, vengono riqualificate le malghe, porta un'agricoltura qualificata. Bisognerebbe portare l'Università di Padova, oltre che sulla selvicoltura, come abbiamo a San Vito, anche sull'agricoltura. Risalgono sempre di più oggi col cambiamento climatico anche le culture, per cui perché non essere, ci sono già diversi giovani che stanno coltivando, allevando, dobbiamo farlo bene. Poi portiamo anche un turismo dolce, soffice, qualificato. Siamo stufi di un turismo mordi e fuggi. Noi abbiamo bisogno di un turismo che cerca la relazione con le persone, che vuole magari venire a rivivere. Noi abbiamo bisogno di portare la gente a riavitare i territori. A seguire l'appuntamento anche Roberta De Zanna, del gruppo di minoranza Cortina Bene Comune, che ha colto l'occasione per ricordare l'appuntamento di domani mattina alle 10.30 sotto al campanile di Cortina, per manifestare contro la costruzione della pista di Bobbe e degli interventi per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.